...la TAMOTO, la 2 Biasi Filippo rappresentativa Idros, la 200 Ombrea Sfondazione Vettegoti, in 4 il Bruni Pluripimatista Italiano per l'EU Sport, CECCON Tomas, alla corsia 5 Merigaldo Lorenzo rappresentativa Idros, in 6 Lamello Mattias Pardigliannuale, 7 Gardini Gabriel, Renanze Romagna, in corsia 8 Pellegrini Ducca, Renanze Romagna. Ricordiamo anche il regolo dell'anifestazione che appartiene ad adesso Gerardini, 57-88. Grazie a tutti. C'è con Thomas, tira con il punto di 26-61, vedremo se per lui ci sarà il secondo record di manifestazione dopo quello di 200 dosso realizzato stamattina. E ce la fa in 55-67 per Thomas Conn, nuovo record da manifestazione per la categoria ragazzi.